Per alcune malattie il trapianto è l'unica speranza di sopravvivenza. In Emilia Romagna i donatori superano la media nazionale, ma i pazienti in attesa in Italia sono ancora 9.000. Il 14 aprile, giornata nazionale delle donazioni e dei trapianti, è un momento importante per fare informazione su una scelta che può salvare molte vite. Per questo l'Ausle di Imola ha organizzato dei banchetti presso l'ospedale di Santa Maria della Scaletta e la Casa della Salute di Castel San Pietro Terme. Punti di incontro per rispondere ai dubbi dei cittadini e spiegare come esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione. Si nota ancora molta disinformazione che riguarda sia l'accertamento di morte encefalica e sia la possibilità di donare organi, tessuti e cellule. È possibile portare con sé un foglio normale con una firmolografa e il proprio consenso o dissenso alla donazione, oppure presso i comuni quando si rinnova o si fa la carta d'identità, oppure presso l'URP di ogni azienda o presso il medico di medicina di base. Molto importante è la donazione di corne che nel Limolese dà sempre dei dati molto efficaci. 61 nel 2018 con 122 corne prelevate. Importante e caratteristica anche la donazione di membrana amniotica, 22 sono state nell'ultimo anno, e di sangue cordonale 27 per creare dei patch o dei colliri apposta per le lesioni corneali oppure il sangue cordonale per le cellule staminali.